Marco Parente è uno dei più innovativi e significativi musicisti della scena italiana a San Martino Bonalbergo, l'Opificio dei Sensi. Allora, anzitutto, che cosa hai intenzione di presentare questa sera? Stasera sarà una via di mezzo tra quello che ho fatto nel corso di questi ultimi vent'anni, quindi ho molte cose anche dai dischi precedenti fino al primo eppure non basta e qualche concessione al disco nuovo che sta per uscire in ottobre però il tutto è molto legato e collegato da quello che è lo spirito del disco nuovo soprattutto a livello di suono, di intenzione e quindi anche tutte le cose del passato sono rivisitate in questa chiave che è un po' quella che ho usato per il nuovo disco, per il nuovo lavoro e ci saranno anche delle strane incursioni in dei progetti che in questi anni ho seguito parallelamente a quello che è l'attività discografica e quindi una piccola concessione a una partitura che ho fatto su Duchamp e forse un'altra cosa su un lavoro che ho fatto su Dino Campana sono entrambi due lavori, due partiture musicali ora sarebbe troppo lungo sviscerare perché sarebbe un capitolo a parte ognuno di queste vene però le butto dentro perché comunque in un senso di percorso, di flusso ho visto che sono pertinenti, ci stanno bene ma per chi Duchamp per esempio? allora, prima di tutto perché siamo nati lo stesso giorno anzi, proprio perché siamo nati lo stesso giorno cioè io quando ho scoperto, non tanto tempo fa che sono nato il 28 luglio, lo stesso giorno di Duchamp è entrato proprio nella mia biografia parto così nella biografia sono nato lo stesso giorno di Duchamp ma perché questo mi ha dato modo di farmi una ragione di un sacco di cose che non vanno e di come vanno nel mio percorso che rapporto hai con la letteratura, con la parola scritta? ma è sempre stato molto chiaro fin dall'inizio, fin dal primo testo ho un rapporto conflittuale io con la parola perché sono diffidente però allo stesso tempo ne sono totalmente attratto anzi maniacalmente attratto perché forse i testi sono la cosa su cui continuo a rimettere le mani fino all'ultimo momento ma non per eccesso di perfezionismo ma proprio perché sento che non è mai sufficiente la parola spesso è inadeguata, spesso ti confonde spesso è un inciampo esce un singolo il 6 settembre e poi il 12 ottobre esce finalmente il disco a quale sto lavorando da due anni stiamo mettendo su una sorta di spettacolo io e Paolo Benvenu ripercorrendo una storia che comunque ci ha visto quasi da subito molto complici anche se ognuno con la sua strada e quindi i tempi erano maturi e c'era la voglia, la volontà di dire ok facciamo una cosa insieme ci mettiamo lì al nudo chitarra e voce e facciamo le nostre canzoni e questo verrà prossimissimamente grazie a tutti grazie a tutti